Ciao, ciao a tutte voi, eccoci di nuovo insieme per parlare dei colori, per parlare in particolare di armocromia e vedere come i colori che ci circondano possono renderci più belli, più radiosi e farci vivere con più sintonia le nostre giornate. Prima di parlare di due tipologie particolari delle donne secondo l'armocromia, porteremo oggi di primavera e di inverno, andiamo a vedere un concetto che si lega in modo particolare, a nostro parere, con l'armocromia. Perché? Perché è il concetto del fototipo. Noi abbiamo visto che lo studio dei colori in relazione alla nostra persona si basa sui pigmenti della pelle, quindi il tono, il colore, il sottotono della nostra pelle, l'intensità, il contrasto che c'è tra il colore della nostra pelle e il colore, ad esempio, dei capelli, delle sopracciglia, degli occhi, il colore delle labbra, se è più violaceo, se è più rosato. Ecco, questi sono tutti i parametri che abbiamo visto essere geneticamente determinati. Quindi nell'arco della mia vita questi parametri non cambiano perché sono nata con queste tipologie di differenziazioni cromatiche e con quelle io vivrò tutta la mia vita. In dermatologia si studia questo concetto dal punto di vista del fototipo. Il fototipo è un concetto estremamente giovane perché il dottor Fitzpatrick l'ha studiato intorno al 1966 ed è solo dal 1988 che è diventato proprio di dominio pubblico. Vedete qua abbiamo una rappresentazione dei sei tipologie di incarnato secondo il concetto del fototipo. Vedete che andiamo dalla donna più chiara con gli occhi chiari, azzurri, magari anche verdi, i capelli rossi o biondi eccetera fino a diventare e con sempre più presenza di melanina arrivare a pelle scura, capelli scuri, occhi scuri. Perché è importante il concetto del fototipo abbinato all'armocromia? Perché andiamo a vedere come la nostra pelle si colora. Chi è che dà il colore, il tono alla nostra pelle? Ci sono diversi fattori biologici che determinano il colore e il tono della pelle. Il colore e il tono della pelle dipende da diversi fattori. Quali possono essere a livello proprio biologico? Sicuramente il fattore più importante, quello che è più visibile all'esterno, è la concentrazione di melanina. La melanina è un pigmento meraviglioso che viene prodotto dai melanociti, che sono delle cellule che vivono nello stato brasale dell'epidermide e sono in grado di creare questa sostanza straordinaria che ha il compito di proteggerci dagli ultravioletti. Questo pigmento, che ha un colore marrone brunastro, a seconda di quanto si concentra, di quanto è in grado di prodursi nella nostra pelle, determinerà la possibilità di proteggerci più o meno intensamente dal sole e dagli ultravioletti. E questa capacità di abbronzarsi e quindi proteggersi o arrossarsi, scottarsi e non proteggersi dal sole sono proprio classificate dai fototipi. Ad esempio il fototipo 1 e il fototipo 2 sono le due tipologie di pelle più chiara. La pelle molto chiara, con i capelli biondi o rossi o castanocchiari, dove abbiamo magari la presenza anche di lentigini, di efelidi. Questa tipologia di pelle è una pelle che non è in grado di difendersi dall'aggressione dell'ultravioletto, non riescono ad abbronzarsi bene. Il fototipo 1 si scotta, ha scottature anche dolorose e dopo si desquama e torna bianco. Questo fototipo, che poi andremo a vedere dove lo possiamo trovare secondo l'armocromia, se nell'estate o nell'inverno o nell'autunno, dovrebbe assolutamente comprendere la necessità di non cercare l'abbronzatura a tutti i costi, perché la sua pelle ha quella caratteristica e non riuscirà mai ad abbronzarsi in un modo dorato come magari lo si desidererebbe. Mentre ad esempio il fototipo 2 tende sempre a scottarsi, ma un pochino, una velatura di abbronzatura potrebbe anche rimanere. E questo è molto importante nel nostro, nel campo della bellezza, perché? Perché dobbiamo assolutamente, sappiamo che ci dobbiamo assolutamente proteggere. Questi due fototipi, se li andiamo a portare nei concetti dell'armocromia, avranno dei colori particolarmente amici, come gli altri ovviamente, e vedremo che saranno caratteristiche di alcune stagionalità. E adesso li andremo ad esporre. Il fototipo 3, tipico dell'Italia, è molto facile trovarlo in Italia, il fototipo 3, è quella tonalità di pelle che tende ad essere molto chiara, chiara o anche leggermente olivastra, chi ha il capello castano, l'occhio castano, e tende ad abbronzarsi, si deve proteggere, ma si abbronza con meno difficoltà rispetto agli altri fototipi. E questo determina proprio la possibilità di avere una variabilità di colori tipica della zona del Mediterraneo. via andare il fototipo 4, che ha una pelle già un pochettino più scura, avrà un'intensità molto alta, i valori saranno molto forti, quindi saranno scuri, e vedremo che ci sarà meno contrasto tra la pelle, gli occhi e i capelli, perché saranno più in sintonia dal punto di vista proprio della colorazione, del pigmento della melanina. E fino ad arrivare al fototipo 6, dove la pelle è molto scura, produce molta melanina, e quindi i valori, l'intensità e i contrasti saranno molto meno evidenti. Da questo punto di vista, quindi, andremo a vedere le tipologie dell'armocromia, anche valutando le caratteristiche in primis della pelle. Un altro pigmento è in grado di dare il colore, il tono alla pelle, che è l'emoglobina, la presenza dell'emoglobina nel nostro sangue. L'emoglobina ci rende la pelle rosata, un color rosso rosato, e ci sono quelle pelli più in trasparenza, che lasciano intravedere queste tonalità, e le ritroveremo proprio in alcune palette dei colori amici. E poi un altro pigmento molto importante, di cui vorrei parlare, perché la cheratina? La cheratina non la troviamo solo sull'unghia, che ci piace tantissimo colorare, ma la cheratina la troviamo anche e soprattutto nella nostra pelle, perché è la proteina che determina tutto lo strato corneo. Ma la cheratina, lo sappiamo perché se vediamo l'unghia al natural, di che colore è? Di che colore è l'unghia che fuoriesce dal polpastrello? È un bianco-giallastro, quindi anche il colore bianco-giallastro determina i nostri toni, i valori della nostra pelle. E quindi anche questo subentra a portare ad una colorazione magari più giallastra di alcune tipologie di pigmenti, fino anche ai carotenoidi. Lo sappiamo che quando adesso in primavera incominciamo a mangiare tante carote, tante frutte e verdure colorati sull'arancione, perché contengono i beta-carotenoidi e quindi i precursori della vitamina A, che ci aiutano a produrre melanina per farci abbronzare. Ecco, questi pigmenti si depositano nell'ipoderma, quindi in quella parte della pelle più profonda, quello che andiamo a vedere proprio nel sottotono. Ecco, se si depositano diversi carotenoidi, avremo un sottotono più giallastro e anche questo potrebbe determinare una variazione appunto del pigmento della nostra pelle. Parliamo in particolare della donna primavera. Quali sono le caratteristiche della donna primavera? Adesso andiamo a vederle nel dettaglio e intanto guardiamo quali sono le palette dei colori importanti per la donna primavera, anche per l'uomo primavera. Perché è importante vedere la palette? Perché primavera ha innanzitutto una grandissima possibilità che solo primavera si può permettere rimanendo in palette, in sintonia, che sono in colori fluo. Perché la caratteristica di questa stagionalità di donna è quella di essere estremamente radiosa. La luminosità della sua pelle, dei suoi occhi, dei suoi capelli è proprio la caratteristica più importante. Poi ci saranno delle dominanze, certo, infatti andremo a vedere come in realtà anche primavera si differenzia in quattro categorie e quindi poi andremo a vedere quali sono le caratteristiche più importanti dei vari sottotipi di primavera. Ma guardate quante sono le tonalità che primavera si può mettere addosso come smalto, come abiti, come accessori e questi sono solo alcuni delle caratteristiche dei suoi colori. Bellissimi i colori e i toni della primavera. Da questi toni possiamo prendere tutta la palette primavera, davvero meraviglioso, davvero bellissime tutte le tonalità con cui possiamo spaziare dal trucco all'abbigliamento, agli accessori e alle mani, alle unghie. Pensate quante volte vi portate le mani al viso e quante volte abbiamo necessità di essere in armonia con il nostro viso. Da questa immagine in cui possiamo vedere tutti i toni delle palette, dei colori che sono adatti, i colori amici della donna primavera, andiamo a vedere nel dettaglio quali sono proprio le palette specifiche delle varie primavera, quindi le varie sottocategorie di questa donna che è estremamente rara e bellissima, straluminosa. Vedete che abbiamo, queste sono le palette della primavera assoluta, cioè dove tutte le componenti che determinano la stagionalità, quindi il valore, l'intensità, il sottotono, il sovratono, sono tutte equiparate, sono tutte al 33, 33, 33, quindi si può permettere tutta la palette. Qui è rappresentata una piccola area di tutte quelle che sono i toni che possono andare quindi dai verdi ai blu, ai viola fino ad arrivare agli aranciati, ai gialli, ai color sabbia. Pensate ai bronzi, ai color della terra, meravigliosi per questa stagione e andiamo ad avere tutta questa ricchezza di palette. Andiamo poi a vedere la donna primavera con un'altissima intensità, dove l'intensità è il carattere predominante e quindi andremo a chiamare spinning bright e vediamo come la sua palette si riempie di colori che esaltano la sua intensità, quindi è sempre primavera, ma questi saranno i colori dominanti della palette che faranno esaltare al massimo le sue caratteristiche di questa intensità. Vediamo la primavera light, la primavera light ha un valore alto per cui abbiamo una colorazione dei capelli, pelle, sopracciglia, occhi e labbra che sono in completa sintonia, c'è poco di vario tra loro e vedete come la palette dei suoi colori di dominanza tendono a diventare ancora di più colori pastello. Guardate che meraviglia questi colori, i colori di questa tipologia di primavera che esaltano il valore del suo incarnato. andiamo poi a vedere la primavera dove la parte dominante è il sottotono caldo. Per la primavera dove il sottotono è caldo e il sottotono caldo è la parte predominante, quindi predomina e domina soprattutto gli altri valori vedete come la palette si arricchisce di colori più intensi. Questi sono sempre colori della palette generale della primavera ma nello specifico avremo una intensità, una luminosità, una leggeressa e bellezza dei tratti del viso che verranno esaltati da questa palette di colori. Un esempio del motivo per cui la tipologia primavera è un po' insidiosina perché può avere diversi tratti. ad esempio è sempre tipologia primavera un fototipo 3 o 4. Quindi un fototipo dove l'intensità, il contrasto è più alto, possiamo avere capelli castani ad esempio, è una buona possibilità di abbronzarsi dove l'intensità, il contrasto e il valore sono estremamente diversi ad esempio da un fototipo 1 che può essere sempre primavera. Pensate al principe Harry. Il principe Harry è una primavera con valore molto alto e quindi tende con la tendenza ad avere i capelli rossi, gli occhi azzurri, le lentiggini e quella pelle che deve fare attenzione all'esposizione al sole perché la melanina non viene prodotta abbastanza per essere ben protetti. Pensate a Chiara Ferragni. Chiara Ferragni è sempre una primavera, una primavera con delle intensità assolutamente diverse dal fototipo 3, quindi più vicino a un fototipo 2 e fa sempre parte di questa tipologia di stagionalità della donna. Per cui la palette è sempre la stessa, ma a seconda delle variabili presenti nel tono, nel sottotono, che è sempre caldo, nel valore, nell'intensità e nel contrasto, dove domina sempre comunque la brillantezza della pelle o comunque quella caratteristica dove la brillantezza è predomina su tutti quanti, bright, e vediamo come si modificano gli incarnati rimanendo sempre all'interno di questa stagione. perché è importante trovare una palette? Perché non perdiamo tempo, non perdiamo tempo a studiare tutte le variabili dei colori. Quando io so di che palette sono, non mi dirigo nemmeno a guardare una parte di palette che non c'entra nulla con me. Vado a scegliere direttamente in quell'area in cui so che trovo le tonalità giuste per la mia stagione. Quindi, ad esempio, se sono una primavera e ho queste palette, andrò a cercare i colori più pastello. Oppure, ad esempio, se sono una primavera estremamente luminosa, andrò addirittura a permettermi i colori fluo e via dicendo. Così queste vai da per tutte le stagioni. Oppure vado in una boutique, voglio acquistare un abito, non mi dirigo nemmeno dove ci sono le sfumature di tonalità che non fanno parte della mia palette. Quindi la palette diventa importante per risparmiare tempo, per risparmiare anche denaro. Perché è inutile che vada ad acquistare quelle tonalità che non mi appartengono, che sono colori nemici. I colori nemici di primavera, chiaramente, quali potranno essere? Lo so, lo sapete già tutti quanti. Il nero, i grigi sono colori che spengono questa tonalità, questa tipologia di donna, quando invece ha necessità di essere brillante, di esaltare con la sua brillantezza. La primavera ha qualcosa di magico. Viene proprio chiamata la magia della primavera. Perché primavera sta benissimo e si illumina con qualunque tonalità che sia luminoso. Tutto quello che è luminosità si addice a primavera. Pensate a Cameron Diaz, pensate a Cate Blanche, pensate a Chiara Ferragni, al Principe Harry. Sono tutti facenti parte di questa caratteristica di questa stagione. E guardate cosa si possono avere nella loro palette. Dai colori cammello, agli aranciati, fino ad arrivare ai turchesi, ai verdi, ai verdi prato, ai fluo. Veramente hanno una vasta gamma di palettes di colori. Sapete che ogni colore può essere caldo o freddo, può essere più luminoso o più spento. Per cui basta che il colore sia caldo e luminoso. Nella sua variabile caldo e luminoso è sempre perfetto per primavera. E come dicevamo, i nemici di primavera saranno tutti colori freddi. Il colore freddo, il nero e il grigio, i colori spenti, intristiscono primavera. Quindi se sei primavera, ma per saperlo devi farti fare un'analisi ben specifica, scientifica, se sei primavera scegli i nostri colori più luminosi pensati proprio per te.